Amiche e amici tifosi pisani buongiorno come vedete un video dalla macchina oggi ma volevo precisare alcune cose rispetto alla gara di ieri tra Pisa e Bari innanzitutto purtroppo devo dire che non ci sarà una live reaction perché la camera non ha registrato l'audio e vedere uno che smanacca e si incazza senza audio non mi sembra carino per cui volevo analizzare un attimo la partita di ieri pomeriggio l'errore tecnico dell'arbitro che io non avevo sottolineato devo essere sincero ve ne chiedo scusa nei video anche finali di partita non avevo sottolineato questo errore perché onestamente non me ne ero accorto e non conoscevo bene benissimo la regola perché a quanto avevo capito bastava che il pallone anche se toccato dall'arbitro non cambiasse il possesso quindi il pallone era già del Bari è tornato al Bari pensavo che questo facesse un po' decadere il tocco dell'arbitro in realtà c'è anche il discorso dell'avviare un'azione promettente cosa che purtroppo è successa perché poi ha portato il rigore il tocco di mano di Caracciolo è a rigore poi trasformato Dante Nucci al novantesimo quindi c'è stato questo errore gravissimo che ha condizionato la partita perché se non fosse successo questo episodio sarebbe finita 1-1 e avremmo portato a casa un punticino la squadra ha comunque giocato per più di 85 minuti in 10 ha tenuto testa al Bari che comunque è una buona squadra che è terza in classifica anche con qualche aiutino come abbiamo visto ieri purtroppo ci sono anche delle dinamiche di palazzo tra virgolette che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione quindi l'arbitraggio totalmente insufficiente nella sua gestione anche se per l'episodio ora parte il tocco dell'arbitro che rimane un errore gravissimo che però anche presentando ricorso da parte del Pisa non credo troverebbe accoglimento perché per errore tecnico e per far rigiocare una partita dovrebbe l'arbitro riconoscere l'errore cosa che anche D'Angelo l'ha detto nelle interviste non ha fatto anzi ha detto che a lui ha fatto bene a far proseguire l'azione quindi il ricorso secondo me andrebbe presentato per dare un segnale forte nei confronti della Lega e dell'AIA per avere una società che è sul pezzo però ci spererei poco ecco per il resto degli episodi espulsione di Nagy dopo 10 minuti ci stava lì purtroppo abbiamo sbagliato noi come al solito l'atteggiamento sui calci d'angolo a mio avviso sbagliato di portare nove giocatori in area di rigore poi prendi il contropiede si trova Nagy contro tre persone è costretto al fallo meno male l'ha fatto fuori dall'area fallo da ultimo uomo rosso diretto ci stava ci stava sul rigore di Torregrossa nessun dubbio l'ha rotato il difensore poi fortunatamente siamo passati in vantaggio e stavamo gestendo la gara fino a che è stato il pareggio chiedo scusa anche lì di Esposito non di che dire ha fatto gol Esposito di testa su un altro errore che si ripete spesso troppo spesso in stagione cioè su questi cross si lasciano saltare gli attaccanti da soli nell'area di rigore cosa che non dovrebbe capitare purtroppo è capitato anche ieri e il Bari ha pareggiato con Esposito prima della fine del primo tempo un secondo tempo totalmente equilibrato le due squadre giochichiavano non mi ricordo di grosse occasioni forse quella del Pisa con Morutan quel tiro da fuori parato dal portiere del Bari qualche azioncina del Bari per l'amor di Dio c'è stata però se non ci fosse stata quell'occasione e quell'episodio con quell'errore tecnico grave dell'arbitro Colombo la partita sarebbe finita 1-1 e nessuno avrebbe potuto recriminare niente perché la partita era giustamente finita in pareggio però la squadra ha reagito comunque ha tenuto testa a un'ottima squadra ora lunedì prossimo ad Ascoli saremo decimati perché oltre a Ture e De Vitis infortunati avremo anche Noji, Caracciolo e Sibilli squalificati rientrerà Beruatto Caracciolo espulso nel finale con citato di gara dove le proteste purtroppo sono sfuggite un po' di mano giustamente però io spero e mi auguro che nelle ultime quattro partite di campionato ci si possa ritrovare la quadra centrare playoff azzerare tutto ripartire da capo e chi la gioca meglio la vince e questo nelle partite secche poi non si sa mai come va a finire quindi uniti intorno alla squadra uniti intorno alla società al mister ai giocatori fino a fine campionato poi si vedrà e come sempre forza ragazzi forza Pisa